Mettere in scena Cats è qualcosa di decisamente divertente ed estremamente complicato La cosa più interessante per una compagnia come la nostra sarebbe che tutti potessero vedere come si sviluppa questo musical all'interno delle nostre file ossia poter partecipare alle prove, vedere ogni giorno l'impegno e la tenacia che ogni artista, ogni musicista mette in questo progetto Sicuramente stiamo affrontando una grande sfida ma la stiamo affrontando veramente con un grande sorriso qualche notte in bianco perché il lavoro è decisamente tanto ogni volta ma siamo veramente tutti fieri di quello che stiamo facendo La scelta di Cats è stata una scelta decisamente stimolante, abbiamo deciso di mettere in scena questo spettacolo ovviamente dopo aver chiesto licenze e diritti direttamente alla Really Useful Group che con piacere ci ha dato l'opportunità di mettere in scena questo musical ma la cosa più sorprendente è stata che ci è stato chiesto di leggere Cats in una nuova chiave interpretativa mantenendo ovviamente le musiche originali di Andrew Lee Lightweber ma cambiando quella che è l'ambientazione scenica, il tema e i costumi dunque dopo tante nottate in bianco a pensare ok cosa facciamo adesso, quale tema troviamo nuovo per Cats ecco l'idea per cui il nostro Cats invece che essere ambientato in una discarica con gatti punk anni 70 sia nel costume che nell'ambientazione stessa noi abbiamo deciso di andare ancora più indietro nel tempo, ossia di arrivare nel 1800 dove il punk era uno steampunk, ossia un punk del vapore una nuova versione di Cats sì, mantenendo le musiche originali ovviamente di Henry Lightweber ma con una nuova ambientazione tutta da scoprire altra cosa non da poco è che potrete vedere e soprattutto ascoltare Cats finalmente in lingua italiana e soprattutto con una grande orchestra dal vivo di più di 20 elementi un Cats veramente tutto da scoprire, reinventare nel nostro caso e da gustare per voi